L'internazionale di San Colombano, c'è tenoli, signore e signori, Samuele Scappini! Grande è un altro primo anno, Paccagliella, il secondo, Parque Valenti! Samuele Scappini dall'Umbria con una grandissima condizione, sei venuto qui in Liguria, hai vinto una gara tiratissima. Sì, una gara tirata fino all'ultimo momento, ho provato a stare in rota i primi 4-5 giri, all'ultimo ho provato a staccare tutti e ci ho fatto a vincere. Percorso senza molto dislivello ma molto duro, tanti rilanci, molto da spingere in sostanza. Sì, era veramente un percorso molto tecnico, con dei rettilini lunghi da spingere, non so che dire perché non mi aspettavo questa vittoria. Era un internazionale, quindi a livello italiano c'erano tutti più forti. Tu come ti sei sentito? Perché adesso iniziamo a entrare nella fase calda della stagione. Sì, alle prime 3 gare sono arrivato sempre sui primi 3, ho avuto un po' di sfortuna all'ultima gara, puntavo per vincere la nazionale e ce l'ho fatta. Dedica? Allora, il mio allenatore, all'Animiro Dellini, che oggi non è potuto venire, alla mamma e a tutti i miei compagni di squadra.